Un'occasione, un'occasione in più rispetto a quelle che poi saranno le vere e proprie selezioni in vista della nuova edizione di X-Factor, tanti giovani li stiamo vedendo che sono convinti di avere questa possibilità, come funziona, come è possibile partecipare così da potersi fare, perché no, notare? Allora, quelli di oggi sono dei colloqui con le ragazze della redazione, non sono dei provini, non verranno valutati, i pre-casting, che è la fase iniziale di tutte le selezioni, si svolgeranno da maggio e solo lì verranno valutati poi per accedere ai casting, ai bootcamp e agli home visit, che sono tutti gli step per arrivare poi al live di ottobre. Questi sono semplicemente dei colloqui con le redattrici, in cui ci si conosce vicenda, in cui si danno informazioni su quello che saranno i pre-casting, su come prepararsi al meglio ed è anche un'occasione per le redattrici di conoscere potenziali nuovi talenti, di fare delle chiacchiere un po' più approfondite, visto che poi in fase di pre-casting saranno migliaia e sarà un po' più complicato. L'idea dell'on the road è proprio questa, andare a cogliere zona dopo zona. Esattamente, l'idea dell'on the road è quella, gireremo un po' tutta l'Italia, abbiamo cominciato con Bari, poi Benevento, la Sardegna, ora siamo in Sicilia, poi faremo ancora un po' di tappe in giro per l'Italia, nella speranza di conoscerci un po' meglio reciprocamente. A Siracusa fino al pomeriggio, al tardo pomeriggio di oggi? A Siracusa saremo sì, fino alle 6 qua in piazza 25 luglio. Devo dire che qui l'atmosfera è differente rispetto a quella che si respirava il largo 25 luglio, là tutti con il modulino, qui invece con l'ansia vera e propria, perché numero dopo numero ci si sottopone a quello che ci hanno spiegato. Non è un provino, sì, va bene, però è un'occasione concreta per far notare il proprio talento. Tra l'altro ci sono dei talenti che noi da queste parti conosciamo anche molto bene e che sono pronti, come Nicoletta Palermo, a sottoporsi ad un ulteriore esame, perché gli esami nel vostro mondo della musica, ma degli artisti in generale, sono l'uno dopo l'altro per crescere. Sì, sì, come si dice, non finiscono mai. Ci stiamo provando, è un modo anche per incontrare degli amici, per passare così mezza giornata in allegria. È il pensieratezza, io penso che bisogna affrontarla in questa maniera. Ci proviamo, vengono nella nostra città, è un peccato non approfittare di questa occasione che ci è stata data. Non si canta, però si parla e basta? Si parla e si canta, ho saputo che si canta anche, si parla e ci si prepara per un eventuale prossimo effettivo provino, così ci hanno spiegato. Così immagino che vengo da quelle parti, lo stato d'animo sia da una parte, beh, immagino la possibilità, la soddisfazione di potersi esibire e poi, lo hai appena detto tu, l'ansia che è inevitabile. Sì, l'ansia da morire, poi diverse volte io ho già fatto on the road, anche i provini, quindi so cos'è, però l'ansia non finisce mai. Quindi a 3.000. Verosimilmente attenderai un paio di ore allora. Infatti sicuramente meno dei provini che, essendo solamente due tappe in Italia, sono tante, tante, tante persone che si presentano, quindi è sempre davvero l'ansia fortissima. L'ansia c'è, anche per me è il primo provino, però cercherò di mettercela tutta, soprattutto per mio padre che non c'è più. Tu cosa canti, qual è il genere musicale che ti caratterizza? Un po' di tutto, però mi piace molto il genere classico, antico, per esempio oggi porterò Lucio Dalla, Caruso, e lo voglio dedicare al mio pezzo importante che è mio padre.